Se sei arrivato qui hai bisogno del mio aiuto. Mi chiamo Massimiliano Tuzzolino e sono un videomaker, fotografo, regista, colorist e sound designer professionista. Lavoro nel settore video dal 2010 ad oggi e posso aiutarti con editing, color correction, color grading, visual effects, motion graphic, sottotitoli, script, green screen e molto altro. Se hai bisogno di una ripresa professionale con camera o drone verrò sul luogo a effettuare le riprese. Sono specializzato in videoclip musicali, spot aziendali, presentazioni, tutorial, fotografia aerea, matrimoni, book fotografici, documentari. Per maggiori informazioni su qualsiasi altro evento o richiesta scrivimi pure e insieme realizzeremo il tuo progetto. Grazie a tutti.